Il nostro evento è quello di un workshop orchestrale, noi andremo a dimostrare come in un'orchestra classica fatta di strumenti orchestrali i ragazzi si possono approcciare tutti, in particolar modo noi lavoriamo sulle disabilità e sulle terapie naturali quindi la musicoterapia orchestrale è una terapia del tutto naturale che funziona praticamente attraverso la musica e noi dimostreremo dal vivo come i ragazzi si riescono a interfacciare subito e a suonare immediatamente uno strumento che non hanno mai suonato per questo concerto verranno utilizzati strumenti ad arco e quindi violini, violoncelli e contrabbasso e praticamente grandi percussioni dal glosspill al timpano alle arpe e quindi diciamo tutti gli strumenti dove i ragazzi acquisiscono una certa manualità e abilità praticamente nel doverli suonare sono abbastanza difficili ma i nostri musicoterapisti insegnano a loro una determinata gestualità quindi in un primo approccio loro sapranno da subito cosa dover suonare loro saranno affiancati nel nostro musicoterapisti e attraverso di loro impareranno una determinata gestualità che li porterà a suonare un vero brano musicale devo dire che l'occasione è stata bellissima perché in un contesto veramente bellissimo del Gargano devo ringraziare la Proloco praticamente Iurea e in particolar modo Maria Dionisio che fondamentalmente ci ha tenuto, sono tre anni, che ci sta dietro e devo dire che la sua tenacia e persistenza ci ha portato finalmente in questo posto veramente bello noi ci auguriamo che oltre questo workshop orchestrale dove metteremo in atto la metodologia faremo anche un bel concerto magari più in là